Oggi prima di andare a lavorare vi voglio far vedere un posticino, ora che passeggiata in acqua Francesco La canna pesciatina ci sta sempre, in natura è meglio che c'è Qua è spettacolare, con questo laghetto che ci sta, alle mie spalle, anche se è nuvoloso E' qualcosa di molto bello Grazie 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 Ciao ragazzi vi saluto da questo posto, spero che vi è piaciuto questa piccola deviazione Adesso si va all'atelier a sistemare Grazie 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 Qua sono un mocello Grazie 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 Quindi, innanzitutto mi tocca sistemare Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.